Il bianoma multiplo è un tumore del sangue ed è uno dei più frequenti perché dopo gli infomi è quello che interessa di più la popolazione generale, anche se è una malattia che interessa prevalentemente le persone più anziane, quindi al di sopra dei 60 anni. Si caratterizza per la proliferazione tumorale di cellule che sono chiamate plasma cellule. Queste sono le cellule che normalmente producono anticorpi, quindi ci difendono contro le infezioni. Nel caso del bianoma multiplo invece cominciano a crescere in maniera disordinata e causano la malattia. Il bianoma multiplo si caratterizza per la presenza di lesioni, soprattutto a livello del midollo osseo, dove in qualche maniera vanno a smangiare le ossa creando una sorta di buco o buchi multipli a livello delle ossa stesse, facendo sì che queste siano più prone, più soggette a sviluppare delle fratture. Il bianoma multiplo negli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio apripista nel caso delle malattie tumorali in quanto sono stati introdotti più di 15 nuovi trattamenti, nuove terapie che stanno veramente rivoluzionando il modo di affrontare e anche di trattare dal punto di vista terapeutico questa malattia. Al punto che mentre una volta, come diremmo anche più avanti, era una malattia di tipo in qualche maniera ineluttabilmente letale, oggi si riesce a cronitizzare nel corso del tempo. Fino al 1950 non c'era nessuna terapia per il bianoma multiplo, quindi i pazienti purtroppo inesorabilmente andavano incontro a morti in tempi brevissimi, si parla veramente di pochi mesi. La prima grande rivoluzione nel trattamento di questa malattia si è verificata nel 1956 con l'introduzione di due nuovi farmaci che hanno permesso di prolungare la sopravvivenza di questi pazienti. Poi nel corso degli anni successivi, quindi parliamo di 30 anni successivi, essenzialmente non è successo nulla nel campo della scoperta di nuovi farmaci. Negli ultimi 15-20 anni c'è stata invece una vera e propria rivoluzione nel trattamento di questa patologia al punto che oggi sono stati introdotti circa 15 nuove combinazioni terapeutiche che permettono di ottenere risultati quasi strabilianti se consideriamo quello che era successo fino agli anni 50. Questi nuovi farmaci permettono in un certo senso di considerare il mieloma oggi da alcuni punti di vista più come una malattia cronica che come un tumore acuto, portando la sopravvivenza in media anche sopra i 10 anni. Il mieloma multiplo è diverso da molti altri tumori, nel senso che le cellule tumorali per la loro sopravvivenza hanno bisogno anche delle cellule circostanti che vengono in qualche maniera rese ostaggio dalla cellula tumorale. Quindi la cellula tumorale, a differenza per esempio di quanto succede in un tumore solido piuttosto che anche in una leucemia acuta, ha bisogno delle cellule circostanti perché gli danno fattori di nutrimento e fattori protettivi. Le nuove strategie terapeutiche, alcune di queste perlomeno, hanno proprio mirato a interferire nella relazione fra la cellula tumorale e le cellule circostanti, cercando di interrompere il flusso di sostanze, materiali e fattori di crescita che la cellula tumorale era in grado di assorbire dall'ambiente circostante. Questo ha permesso effettivamente di prolungare di molto la sopravvivenza dei pazienti perché le cellule tumorali muoiono in quanto non ricevono più approvvigionamenti dall'esterno. Faccio un esempio, ci sono alcuni farmaci per esempio che interferiscono con la creazione di nuovi vasi. In questo modo a livello del midollo le cellule tumorali non ricevono più abbastanza apporto di fattori nutritivi dal sangue e non riescono più a sopravvivere. Un'altra metodica terapeutica di grandissimo successo introdotta negli ultimi anni è stata quella di interferire con i meccanismi che producono e reggono la produzione di anticorpi. Siccome le cellule tumorali, le plasmacellule di cui parlavamo prima, producono una grande quantità di anticorpi, interferendo nel metabolismo delle proteine si è visto che la cellula tumorale in qualche maniera rimane ingolfata di proteine e per questa ragione va incontro a morte. Cause evidenti che possono apportare allo sviluppo del mieloma non sono note per cui è una malattia che si sviluppa soprattutto nei pazienti anziani e non ci sono neanche cause genetiche molto chiare che possono giustificarne l'insorgenza. Per quanto riguarda invece sintomi e diagnosi, molto spesso la diagnosi del mieloma viene fatta in base alla presenza di un test nel sangue lievemente alterato. Si parla di picco monoclonale e corrisponde agli anticorpi che vengono prodotti dalle cellule tumorali, del plasma cellule, che producono anticorpi e questi possono essere rilevati a livello del sangue periferico. In un certo senso nel mieloma siamo fortunati perché a differenza di altri tumori, dove è molto difficile identificare la malattia da test sul sangue, nel caso del mieloma è relativamente agevole, tramite un semplice prelievo, riuscire a identificare la presenza della malattia. Tra l'altro, quando si va dal medico curante che prescrive gli esami di routine, di solito il picco monoclonale o la ricerca del picco monoclonale viene inclusa negli esami che vengono condotti. Quindi in un certo senso la popolazione è già sottoposta ad uno screening per l'identificazione di questa componente, quindi per la potenziale identificazione della malattia. È importante sottolineare come la presenza di un picco monoclonale nel sangue periferico non vuol dire assolutamente una diagnosi certa di mieloma multiplo, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi corrisponde a una condizione benigna che si presenta via via aumentando nel corso dell'età e che molto raramente può evolvere il mieloma, ma che nella stragrande maggioranza dei casi è completamente benigna, va solo controllata nel tempo per essere sicuri che non evolva, ma rimane essenzialmente stabile. Se posso dare un consiglio a un paziente con mieloma è quello per i trattamenti di recarsi presso centri che abbiano un'attività clinica e di ricerca molto attiva su questa malattia. Come accennavo prima, circa negli ultimi 15 anni sono stati introdotti 10-15 nuovi farmaci e nuovi farmaci continuamente vengono proposti e introdotti nella pratica clinica e solo i centri che sono davvero dedicati allo studio e al trattamento di questa malattia hanno la disponibilità di questi nuovi trattamenti e possono immediatamente proporli ai pazienti.